Micaela, grazie, grazie, grazie per la performance di stasera, io ti ho adorato Grazie, grazie mille Sei stata una ballerina boom Boom, e sono sempre stata un po' così Mi è sempre piaciuto ballare, l'ho fatto da piccola Ho sempre avuto questa cosa dentro di esplodere all'improvviso E sei stata veramente un'esclusione, io poi che sono una grandissima sostenitrice delle pupe Io stasera veramente sono stata ancora più contenta e diverti qui Grazie, grazie mille Ti sei divertita? Molto, moltissimo E noi con te, io ti ringrazio ancora e ci vediamo presto Grazie a voi, grazie a voi, ciao Ciao, sei un'aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper? Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Pupe Art Contest La ricerca dei talenti è appena cominciata Quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni Inviando un sms al numero 320 22 45 117 O commentando il video qui sotto Io sono già sul palco, eh, mi aspetto qua Bulli e Pupe Art Contest Dal 19 ottobre, tutti i giovedì, all'Ibari Caffè di Voghera Allora, abbiamo finito questa pubblicità Ah, non ti era su che c'è un trancino Non ti era su che c'è un trancino